Arriva da Caserta, è un centrocampista e dalla classe 2000 lui è Antonio Carnevale! Ed ecco un attaccante che viene da Torre Annunziata del 1999, lui è Alessandro Carnicelli! E adesso abbiamo un difensore, un difensore che viene anche da Caserta, è del 2002, pensate un po', e lui si chiama Cecoro Andrea! Beh, adesso invece abbiamo uno che gioca in casa comunque, perché arriva da Termoli, è un centrocampista, classe 2001, Daniele Ciancaglini! Ci spostiamo a Napoli, un centrocampista, lui arriva da Napoli, dicevo, del 2002, ed è Simone Conte! Rimaniamo sempre a Napoli, è un difensore del 1999, Simone D'Alessandro! Centrocampista che arriva da Caserta, è del 2002, Andrea De Rico! Hanno scritto Andrea qui, eh! Hanno scritto Andrea, purtroppo io ho detto... Hanno scritto Andrea, purtroppo... Bene, arriva comunque... Allora, adesso abbiamo invece un difensore che viene dall'estero, dalla Bulgaria... Hanno sbagliato, io non c'entro che questo è scritto comunque... Vabbè, viene dalla Grecia, ed è appunto Davros Dimitrios! Scusa, allora, l'ho scritto Bulgaria qui, purtroppo... Non so chi l'ha fatto questo coso... Allora, abbiamo adesso da Marcianise un attaccante del 1997... Il capitano è solo un capitano, Francesco De Filippo! Beh, allora, senti Francesco, facci capire quanti gol hai fatto quest'anno che abbiamo perso il conto... Stai giornale di 52! Eeeeeee! Che roba, eh! Tanta roba, devo dire! Allora... Adesso arriva invece da Acerra, un difensore, classe 2002... Luigi De Maria! Un attaccante di Acerra, purtroppo sfortunato, ma comunque sempre validissimo e ha dato sempre un contributo davvero importante... Lui è Antonio Di Costanzo! Fategli un doppio applauso, perché lui lo merita davamente! Centrocampista da Battipaglia, classe 1999, Giuseppe Di Lascio! Ci spostiamo in Basilicata, a Potenza, e l'attaccante è del 2001, lui è Fabio Lorusso! Da Potenza arriviamo a Foggia, perché a Foggia c'è un attaccante del 2003, questo attaccante si chiama Vincenzo Perdonò! Si torna a Napoli con un difensore, con la classe 1999, lui è Mattia Pesce! E' un estremo difensore, il nostro estremo difensore che viene da Napoli, classe 1999, lui si chiama Vincenzo Riccio! Dalla porta torniamo in attacco, da Salerno, classe 1999, Loris Ferruccio Roca! Portiere ancora da Napoli, abbiamo un classe 2002, Saverio Viscardi! Un difensore che arriva da Napoli, classe 1900, con la sigaretta, mi dicono con la sigaretta, Vincenzo Visconti! Allora, adesso invece abbiamo l'ultimo giocatore, da Salerno! Allora, da Salerno abbiamo classe 2002, il maestro Leonardo Saracino! Poi abbiamo un altro ragazzo, che è americano, dov'è? Allora, come si chiama? Taka! Taka! Vieni qua! Taka! È l'ultimo del gruppo, ma parte anche lui del nostro gruppo! Taka! 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 per chiamare perché questo dirigente davvero è stata l'anima e qui dal mese di giugno ha fatto tutto Presidente a lei vogliamo fare prima gli altri? va bene allora aspettiamo perché mi sembra che è in ritardo anche lui allora ragazzi venite qua che vogliono fare no andrea oh dai 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 caricate 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 guardate che roba si 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 vergogna mettili qua scusate c'è una nostra fotografa che vi vuole fare una foto da questa parte volete girarmi un attimino di qua giratevi un attimo che vogliono fare una foto anche di qua c'è la la foto prego giratevi un po' sulla vostra destra si dove è?